avevano sperato che viaggiasse sulle ruote della carovana rosa il riassetto della strada lungo la quale si affacciano le loro abitazioni così non è stato e loro ci sono rimasti davvero male mal contento tra i residenti di via provinciale nocera sarno strada come dice il nome tra nocera e sarno appunto rappezzi sì ma almeno fatti con criterio è quello che chiedevano ed invece le toppe d'asfalto sono state messe davvero alla meno peggio lungo l'arteria viaria una toppa qui una un po più in là molti dislivelli anche particolarmente evidenti del tutto ignorati soprattutto quelli a ridosso di questa piastra di ghisa che rumoreggia al passaggio di auto e camion senza tener conto ci raccontano alcuni residenti di via provinciale nocera sarno del fatto che ad ogni passaggio di mezzo pesante in casa sia la sensazione netta che sia in atto una scossa di terremoto qualcuno ci dice di pareti lesionate di mattonelle rotte di marmi con evidenti danni dovuti alle vibrazioni i più ottimisti avevano sperato che gli interventi urgenti messi a segno in vista del giro d'italia che domani passa proprio di qui significassero almeno un rimaneggiamento del manto d'asfalto ed invece solo rappezzi rattoppi e neanche a pioggia ma più che altro a macchia di leopardo da qui la segnalazione inoltrata la nostra rubrica ufficio reclami segnalazione che rilanciamo con l'auspicio che l'intervento di manutenzione arrivi anche se a portarlo non sarà stato il giro d'italia